Per i consigli di Lega così... Beh, se viene Lega... Ci crede al secondo posto, signor Galiani? Ma no, ma io non credo a niente, nel senso che lo sa che non mi piace fare previsioni. Noi dobbiamo cercare di far bene, di andare avanti e poi vedremo cosa succede. Davvero, io quelli che fanno le tabelle, io pareggio di qui, quel là vince di là, poi vinco di qui, quell'altro... Non ci ho mai creduto, non ho solo una cosa che non è nella mia testa. Il Milan deve far bene, ha fatto un girone straordinario da 41 punti, che sono veramente tantissimi. Io poi fra l'altro sono convinto che la rincorsa del Milan non sia cominciata in occasione di Milan-Genoa, ma nell'ultimo 20 minuti e mezz'ora di Lazio-Milan, quando stavamo perdendo 3-0, che abbiamo cominciato a giocare a calcio. Bene, finita quella partita lì, che finì 3-2, abbiamo fatto in un girone 41 punti, contro i 37 della Juve e i 34 del Napoli. Quindi è un girone che stiamo marciando a medi altissimi. Cosa succede in futuro non lo so, mi auguro tutto bene, ma non mi piace fare tabelle. Ma c'è un po' di rammarico pensando alle prime campionate, insomma, alle prime giornate? No, nessun rammarico perché era chiaro che ci voleva del tempo, poi se anziché due mesi fossero tre o uno non lo so, però è chiaro che quando cambi completamente una squadra, lo sappiamo bene, sono sempre le stesse cose che ripeto, quindi inutile, ci vuole del tempo, poi che ci volessero due mesi, un mese e mezzo, due mesi e mezzo, nessuno lo poteva sapere, però che ci volesse del tempo lo avevamo messo in preventivo, quindi non c'è nessun, anzi direi che raramente un club cambiando così tanto riesce in così poco tempo a rimettersi in carreggiata, quindi sono soddisfatto. Ieri alla domenica sportiva ha detto che la squadra resterà praticamente alla sera. Sì, assolutissimissimissimamente sì. Se prende uno dove lo prende?